Continua il ciclo di vittorie per l'Inter edizione 1953-54 che si conferma campione d'Italia dopo il titolo conquistato l'anno prima. In panchina siede sempre Armando Foni. Criticato per il suo gioco sparagnino, Foni in questa stagione mitiga gli atteggiamenti ritenuti troppo prudenti a favore del gioco d'attacco. Ne viene fuori un'annata estremamente positiva che si chiude con il primo posto in campionato dopo un testa a testa con la Juve che si risolve solo all'ultima giornata. L'attacco segna 67 gol. Lennart Skoglund regala meraviglie mentre l'ala destra Armano con 13 reti è il capo canoniere nerazzurro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.